Buonasera cari amici, mi sarebbe molto piaciuto essere lì con voi al grande maneggio, ma in questo momento purtroppo sono impegnata su un film. Non posso essere a Mosca con voi, però voglio ringraziare moltissimo l'organizzazione Manifestazione Culturale di Buongiorno Italia. Grazie tantissimo per questo prestigioso premio e poi è bellissimo questo profondo interesse per la storia e la cultura italiana. Io amo molto Mosca, amo la Russia, amo i russi e il vostro interesse nei miei confronti è importantissimo per me. Buongiorno Italia è una manifestazione molto importante per tutti i rappresentanti della cultura italiana, sia l'Italia che la Russia hanno un enorme patrimonio nel campo della letteratura, della pittura, della musica, del cinema. E come dicevo prima, per me tornare a Mosca è sempre bellissimo, è una città incredibilmente bella, ricca di cultura e di storia. Che sia molto bello che la manifestazione di Buongiorno Italia si svolga proprio nel cuore di Mosca, vicino alla piazza rossa. Mosca ha aperto il suo cuore all'Italia. Vi auguro tantissima fortuna e successo per sempre. Io mi auguro che tali manifestazioni si svolgano il più spesso possibile e anche se ritrovo in Italia il mio cuore con cui vi bacio.